lello un grande ritrovamento abbiamo trovato il film il fulmino dei simpson non è un video è troppo bello il fulmino dei simpson ci manca solo otto bartellisi o no peppe? si ci vado come si? vai! capo apri aprite! 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 sta pure la motocicletta via full shit ma ti fai un po' ma sei capitati spiderman? voglio scrivere spiderman? eh si! ma io! aiuto aiuto! dai emergenza e exit, no ragazzi, noi qua ci passiamo proprio eh si? noi percadini ci passiamo proprio ci entriamo troppo bello, bellissimo però facciamo come Homer nella puntata della caverna, che li vogliamo i c***o mapio, se non è pronto a fare lo ship in me, stiamo in bicicletta si può fare lo ship in me Questa è proprio la camorra che chiama Napoli risponde, Napoli violenta. Fabio, allora, Fabio, questo è il teatro San Carlo. È bella. Bene. Non lo so. Quello è il palazzo reale. Bellissimo. Questo è Peppe. Peppe reale. Con la Peppe reale. Con Peppe reale. Quella è la piccola San Pietro che non mi ricordo mai come si chiama. La chiesa della piccola San Pietro. E lì hanno fatto il concerto di Piero Daniele così ti puoi orientare. Che siamo un nezzo. Che siamo un nezzo che è a Napoli. Non è che è stato caricato in un nezzo. Ma che è staccato con Giubbino e Cuginze. Non è stato un nezzo. In tua ragione se vuoi caricare un nezzo. Vuoi caricare un nezzo. Non è stato un nezzo. Stasera ci hanno messo a fare il caldo. Non mi piace. Non è stato un nezzo. Questo ritrovamento fondamentale è finito. Ci vediamo.